Buona serata a tutti amici, spero che mi si vede abbastanza illuminato. Che dire, questa prima partita dell'Europeo Under 21 tra Repubblica Cieca e Italia è stata... Sfacelo o no? Ma insomma, il pareggio ci può anche stare, va bene, ma la cosa che non va è chiudere la partita con due uomini in meno che non potranno giocare il big match contro la Spagna. Così non va bene, anche se dobbiamo dire, sicuramente il primo tempo è andato abbastanza bene. Il secondo, l'inizio, una rincorsa degli avversari che è più che giusta, che poi hanno trovato il gol, ma veramente quella zampata finale per metterla sul 2-1 è mancata proprio e alla fine, che dire, la prima espulsione, più che giusta perché i tonali, insomma, non si fanno quelle cose, potevi starti un po' fermo con quella gamba. La seconda doppia munizione con conseguente espulsione poteva anche non esserci, però l'arbitro ha deciso così. Che dire, noi 1-1 con due espulsi che non potranno giocare contro la Spagna. La Spagna, un bel trista, la Slovenia, parola quindi alla prossima partita che bisogna evitare sicuramente di perdere contro la Spagna e se è possibile magari di fare un pareggio. Chissà se ci riusciamo, sperando che ne abbiamo almeno le forze e la gagliarderia, che noi ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo, di fare una bella vittoria. Non è sì, però ce la possiamo fare. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!